ragazzi e ragazzi e soprattutto collezionisti bentornati sul canale lo state vedendo oggi 8 settembre per voi magari sarà un pochino più tardi perché lo sapete ormai ci siamo fossilizzati su questo video a settimana appuntamento fisso il lunedì alle 14 ma oggi è 8 settembre in edicola è uscita latina è uscita la bustina oro qui ne vedete due perché per voi sarà prima una ce l'andiamo ad aprire per instagram quindi la togliamo subito si dai mettiamola qui dicevo oggi 8 settembre tra l'altro mi fa un sacco piacere girare questo video di 8 settembre perché ragazzi l'8 settembre 2021 sul canale nasceva il canale usciva il primo video e vi voglio ringraziare soprattutto a chi ci ha creduto in questo progetto sin dall'inizio abbiamo fatto tantissimi video ma non sto qui a farvi perdere tempo tante collaborazioni anche e soprattutto con la panini che probabilmente è quella lo sapete che ci rende più orgogliosi in questa nostra community la community è cresciuta tantissimo ma se voi volete alimentare ancora di più questa community che va avanti dal 2021 mi raccomando lo sapete non ve lo ricordo spesso lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale detto questo vi ho fatto perdere anche fin troppo tempo e quindi andiamo ad aprire da cosa partiamo latin no dai la bustina oro perché sono più curioso della bustina oro quest'anno eccoci qui bustina d'oro che come sempre come ogni anno 10 euro la bustina contiene 17 carte all'interno avremo una bustina premium tre speciali e una limited edition le quattro speciali sono queste che ora andiamo a vedere subito non perdiamo tempo a farvele leggere da qui qui ci sono le altre due limited edition quindi andiamo ad aprire la bustina e lo vediamo subito insieme anche qui dietro c'è scritto quello che uscirà ma ce l'abbiamo in mano e quindi perché perdere tempo a descrivervelo a farvi vedere le foto quando possiamo aprire la bustina e vederlo insieme e quindi eccoci qui bustina premium con ragazzi il blister delle bustine premium 5 bustine 5 euro 25 euro che uscirà nei prossimi giorni quindi probabilmente lo vedrete lunedì prossimo qui sul canale andiamo a vedere le carte che ci sono all'interno partiamo dalla card online e a proposito ragazzi se giocate il gioco online mi raccomando aggiungetemi perché mi trovate lì e se mi vedete online potete tranquillamente sfidarvi lo sapete che come sempre vi regalo i codici quindi le mie squadre non sono mai particolarmente forti anzi vi do anche i codici delle limited edition visto che poi me li chiedete se avete bisogno di altri codici di queste limited magari fate un salto su instagram anche se su instagram il video uscirà prima magari qualcuno non le ha sbloccate e le potete trovare lì perché vi ricordo che questi codici si possono sbloccare una sola volta il primo che arriva e detto questo ragazzi prima bustina premium di quest'anno andiamo alla ricerca delle limited firmate perché all'interno di queste bustine l'abbiamo letto lo sapete ve l'avevo anticipato così come lo scorso anno ci saranno le carte che si possono trovare autografate ovviamente con l'autografo stampato intanto grande codicino per voi eccola qui la limited vediamo se subito quella firmata ed è così subito lautaro martinez la limited firmata grande ragazzi partiamo subito forte e poi sotto andiamo a vedere masterclass cesni lo stemma del monza carboni poi ok abbiamo un po di basi che andiamo quindi giustamente un pochino più veloce ecco qui poi tutte altre basi ma soprattutto ragazzi cercavamo proprio la prima firmata ed eccola qui lautaro martinez firmata ora faccio un po di ordine e ci andiamo ad aprire la team ed eccoci qui abbiamo liberato il nostro classico sfondo in legno dalla bustina premium oro e direi che già siamo partiti bene ci andiamo ad aprire la team team da previamente 12 euro come al solito l'andiamo ad aprire team sempre comodissime ragazzi soprattutto per mettere i nostri doppioni io la uso sempre tantissimo ma che bello ma che bella la bustina così un po diversa ci sta ovviamente qui la carta come fate classico togliamo la carta e all'interno ci andiamo a mettere i nostri doppioni solitamente tra l'altro vi racconto questa solitamente io ho diciamo un po la regola tra virgolette che quando la team è piena di doppioni mi fermo ragazzi anche perché solitamente significa che stiamo per finire la collezione poi cerco di fare ovviamente i scambi quindi dicevamo team sempre utile pacchettone che ci andiamo ad aprire all'interno troveremo 45 carte ragazzi di cui 4 limited esclusive che si possono trovare solo all'interno della team quindi se vogliamo fare la collezione con tutte le limited dobbiamo per forza prendere la team e quindi vediamo le limited abbiamo mazzocchi abbiamo marine laureante e julmand che sono le quattro limited speciali che si trovano solo all'interno della team ma io ve la consiglio perché comunque avete la team e è sempre comoda per mettere le carte avete le limited quindi insomma poi abbiamo sabelli d'armian provvedere decedela valoti elgason chiesa faraoni caso stojanovic abiscer massina masina enrique matic bonazzoli scurs scalvini zito lo fumbo milenkovic vogliacco e poi bastoni marusic andiamo un pochino più piano su questo abbiamo imparabile del sassuolo sotto abbiamo blindato del napoli un bel codicione per voi perché se non sbaglio questa è pure da un pochino di più no forse è solo il colore diverso non lo so e poi dominguez masterclass strefezza masterclass abbiamo un po di carte girate che io le andrei a mettere in fondo e abbiamo sosa abbiamo zaleschi diamante e poi dragusin ambarabat di lorenzo zaccagni di a e poi abbiamo un po di energy con venuti maldini brenner pulisic che sta facendo da subito molto bene andiamo a vedere le ultime o lo stemma della roma finalmente ancora non mi era uscito lo stemma del verona e lo stemma della juventus beh che dire ragazzi ci siamo aperti un bel po di cose abbiamo trovato già le limited abbiamo trovato la limited firmata da lautaro insomma non ci possiamo veramente lamentare più tutte queste limited speciali queste qui anzi abbiamo queste due basi più tutte queste della bustina oro quindi veramente normale che dire ragazzi per il video di oggi posso fermarmi qui io vi ricordo di iscrivervi se non siete iscritti vi ricordo di fare un salto anche su instagram perché anche lì ci apriamo cose vi do aggiornamenti un pochino più al volo rispetto a youtube dove facciamo un video a settimana un pochino più cicciotto con un pochino più di materiale anche per le collaborazioni quelle un pochino più importanti quindi per rimanere aggiornati su tutto il mondo del collezionismo soprattutto panini soprattutto adrenalin mi raccomando iscrivetevi su instagram dove vi aggiorno più giornalmente facciamo qualche gioco a volte anche qualche sondaggio per vedere cosa preferite perché così come era nato nell'idea dell'8 settembre 2021 quando è nato il canale il canale si porta il mio nome di simone però mi piace portare quello che volete quindi assume praticamente le fattezze di quello che volete vedere voi sul canale detto questo ragazzi a me non resta che ringraziarvi soprattutto voi che come sempre arrivate alla fine del video e io vi auguro una buona giornata ciao ragazzi